A Sciacca si è svolto il terzo raduno tutto Abarth Day, una iniziativa proposta dal sodalizio Solfare Historic Car di Aragona in collaborazione con il Comune. Grazie per questo meraviglioso evento che avete organizzato nella nostra cittadina, siamo lieti di ospitarvi e diamo a tutti i partecipanti il benvenuto, è una bella mattinata, la partecipazione è molto ampia, ci sono più di 80 vetture sia moderne che antiche, quindi a breve il rombo di queste meravigliose auto risuonerà per le strade della nostra città. Siamo qua tutti a Sciacca per questa terza edizione di Tutto Abarth, ringraziamo tutta l'amministrazione, ringraziamo la bella cittadina, ci vedremo presto, speriamo che tutti gli intervenuti si riescano a divertire, godetevi questa giornata, salva a tutti, divertitevi! Io ringrazio tutti per questa bella manifestazione che si è organizzata qua a Sciacca, dove mi hanno dato l'opportunità di mettere insieme un po' di amici, è veramente emozionante di trovarsi assieme con circa una tantina di macchine tra il vecchio e il nuovo, spero che ci possiamo divertire, ci sarà un piccolo tragitto verso Menfi e da là ci fermeremo al ristorante presso Villa Palocra. Spero che la giornata possa continuare per come è partita, che sinceramente è stato molto bello. Devo fare le ringrazioni all'amico mio Calogelo Bono per avermi portato a Sciacca a questo terzo evento, all'amministrazione e al vice sindaco e al mio presidente Nicola Scicrone con tutto il team. E un grazie a tutti i partecipanti perché l'anima del raduno sono loro. Siamo ben lieti di accogliere a Menfi questa bellissima iniziativa, un evento unico, un evento che certamente deve portare tutti noi ad essere gioiosi, ed accogliere davvero con grandissimo entusiasmo queste iniziative, queste e tante altre. Aspettiamo, vi aspettiamo a Menfi, vi aspettiamo a Menfi prestissimo, intanto ci sarà questa manifestazione adesso del taglio del nastro per iniziare la partenza e speriamo che il caldo sia più benevolo con tutti noi.